Disponibili al lavoro sì, ma senza cercarlo con particolare fervore. È un dato inquietante che si legge nelle rilevazioni di Eurostat, l'ufficio di statistica dell'Unione Europea. Vale a dire che nel nostro paese nel 2021 vi è stato un tasso dell'11,8% di persone disponibili a lavorare, ma non alla ricerca. In Europa, tra 34 paesi considerati da Eurostat, la percentuale è molto più bassa, e cioè il 3,7%, segno che il lavoro si cerca e come. La domanda insoddisfatta di occupazione nell'Unione riguarda 31,2 milioni di persone tra i 15 e i 74 anni, comprende disoccupati, sottoccupati a tempo parziale, part-time che vorrebbero lavorare di più, e persone disponibili a lavorare che non sono alla ricerca. Il dato complessivo era aumentato nel 2020 con il Covid, principalmente a causa dell'aumento del numero di persone disponibili a lavorare non alla ricerca di lavoro, un dato che potrebbe essere spiegato dalla lunghezza e dalla ripetizione delle chiusure, nonché da altre misure sanitarie.